impara bene questa regola le consonanti p e b sono sempre precedute dalla lettera m perché? perché è una regola perché? perché altrimenti suona male e si fa anche più fatica a pronunciarle prova con cosa? con qualche parola per esempio bambina bambina non senti che suona male e si fa più fatica? no! beh la regola è questa p e b sono sempre precedute dalla lettera m dalla lettera m dalla lettera ho capito non sono mica imbranato e poi lo dice anche la filastrocca una m simpatica e in gamba mentre sul prato si riposava la p con la b si lamentava non ce la faccio a camminare con questa pancia da trasportare di pancia ne ho due mia cara amica disse la b e non sai che fatica mentre ciascuna assai si lagnava una n per caso di lì passava e alle lettere in difficoltà offrì la sua generosità amiche per mano vi prenderò e strette a me vi trasporterò la n tirava più che poteva ma proprio non ce la faceva con le sue esili gambine non spostava le due letterine passo poi una m poco lontano e si offrì di dare una mano facendo forza su tre gambette poteva aiutare le sue amichette a p e b sembrò di sognare ora riuscivano a camminare grazie a tutti